E' come camminare nell'oscurità. Lo so perché vivo da quasi 600 anni. Ho visto molte cose e posso raccontarle. Prossimo obiettivo soggetto Gianaina. Per il suo sorriso, sarei capace di affrontare un esercito intero. Ovunque andrà, anche tra mille lune, Gianaina sarà sempre con lui. Ho paura che ciò che provo per te possa farti del male. Non puoi prevedere il futuro. È del passato che ho paura. Gianaina! Gianaina! Siamo il movimento rivoluzionario di azione democratica. Attaccheremo e vangeremo i nostri nemici. Stanno scappando sul tetto. Concentrate il fuoco sull'aria. Gianaina! Ogni secondo a tuo fianco è l'eternità. Anche senza rendercene conto, ogni giorno combattiamo per qualcosa. Anche senza rendercene conto, ogni giorno combattiamo per la vita. Anche senza rendercene conto, ogni giorno combattiamo per la vita.